Musica Pubblica denuncia del sindaco di Conas una serie di fatti a suo dire illegali riguardante l'arrivo di oltre 400 profughi nell'ultimo mese Celebrati a Marghera i funerali di Elia Molina il bimbo di tre anni col cuore malato tutta la comunità ha voluto portare il suo sostegno secondo viaggio dei volontari del cuore per portare materiale edile alle famiglie colpite dal tornado che ne hanno più bisogno è una buffonata le dichiarazioni di Brugnaro sui gay pride a Venezia hanno scatenato la reazione del mondo omosessuale la vera vergogna dicono è lui un 17enne magrebino senza fissa di mora è stato arrestato per spaccio era sbarcato a Lampedusa, Zaia c'è differenza con i veri profughi il tram slitta ancora lo conferma l'assessore Boraso la commissione arriverà la prossima settimana da metà settembre tutto dovrebbe essere ok una buona serata a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre in apertura si torna a parlare di profughi andiamo a Cona perché il sindaco ha pubblicato una denuncia su una serie di fatti a suo dire illegali riguardante l'arrivo nel suo comune di oltre 400 migranti nell'ultimo mese dopo un mese di silenzio durante il quale il sindaco di Cona Alberto Panfilio ha cercato di far fronte ai continui arrivi di profughi alla caserma Silvestri attraverso la collaborazione con la prefettura la misura è colma secondo il primo cittadino che denuncia pubblicamente una serie di situazioni a suo dire inaccettabili la quota che le stesse istituzioni definiscono equa nell'accordo Stato-Regioni è di un immigrato ogni 1000 abitanti fa notare conetta è una frazione di 190 abitanti nell'ultimo mese sono arrivate 416 persone significa due immigrati per ogni residente io ho ribadito più volte il numero delle presenze dichiarate dalla cooperativa io non sono in grado di stabilire quanto siano le presenze perché non mi vengono comunicati per ordine del prefetto gli allontanamenti dunque io non sono in grado di dirle quante persone oggi ci sono dentro la base questi numeri spiega il sindaco ci vengono comunicati dalla cooperativa eco-officina con una lettera in cui viene testualmente scritto che le persone sono affidate a loro per la prima accoglienza come la convenzione stipulata con la prefettura di Venezia abbiamo chiesto alla prefettura copia di tale convenzione il 21 agosto ci ha risposto per iscritto che non era mai stata firmata vorremmo sapere a che titolo questa cooperativa sta operando da più di un mese la caserma di Conetta quanto all'aspetto sanitario continua Panfilio i controlli disposti dalla prefettura ad oggi sono stati completati soltanto su 40 persone nonostante la grande disponibilità dei medici dell'US di Chioggia questi sono dati oggettivi le valutazioni le stiamo ovviamente facendo io esprimo come responsabile della sanità pubblica la mia preoccupazione segnalo inoltre prosegue il sindaco che non ci viene più garantito il costante presidio delle forze dell'ordine H24 diversi residenti dichiarano che sono stati svegliati in piena notte da schiamazzi di persone in evidente stato di alterazione all'interno della loro proprietà probabilmente il loro concetto di proprietà privata è diverso dal nostro è una zona agricola con ampi spazi ma sono comunque spazi non delimitati da fossati e dunque loro pur avendo noi avvertito molte volte la cooperativa di istruirli che sono spazi privati continuano le loro scorribande probabilmente non vogliono fare nulla di male ma se tutte le sere hai 20-30 persone che ti entrano in casa ognuno di noi almeno si deve preoccupare chiedo al ministro Alfano e al prefetto Cuttaia un'assunzione di responsabilità per questi fatti conclude Panfilio il ripristino dei principi di equità e giustizia finora calpestati da uno stato che ha imposto l'illegalità e adesso con il racconto di un testimone cerchiamo di capire come vivono questi profughi all'interno della caserma non c'è nessuna regola ognuno fa quello che vuole secondo la testimonianza anonima di un addetto alle pulizie esterno alla cooperativa che gestisce la caserma Silvestri i profughi trascorrono le loro giornate in un clima di totale anarchia una settimana fa mi sono quasi messo le mani addosso con uno perché mi ha cominciato a prendere in giro io vengo qua a farti la pulizia mi prendo anche per il culo è un mese che sono qua e non mi hanno ancora pagato impossibile secondo l'operatore gestire un numero così grande di immigrati con un personale così ridotto mi dicono adesso sono in 300 cosa ci posso fare? siamo in 2-3 e così capito? chiudo un occhio sono 2-3 persone qui dentro allora sono 2-3 e 2 operatori che non so qual sia la sua qualifica sono immigrati anche loro che sono neri non so adesso quanti anni sono in Italia non so però so che loro fanno anche la notte mentre gli altri ci sono 4-5 che vengono solo di giorno attualmente la caserma ospiterebbe circa 300 persone un centinaio tra quelli arrivati a Cona mancano dunque all'appello gli ospiti della struttura vivono incamerate da una trentina di posti letto c'è due camere che ci sono sulle donne invece c'è una camere che c'è sia uomini che donne mi sembra che non sia una condizione anche poco igienica cioè non hanno neanche non hanno armadi cestini non hanno niente hanno i vestiti buttati sotto i letti proprio completamente i volontari continuano a raccontare l'addetto alle pulizie si limitano a servire i pasti a tenere d'occhio la situazione per il resto i profughi sono lasciati completamente a se stessi io non li vedo li vedo raramente chi parla con i profughi e questi tutto il giorno cosa fanno? stanno là stanno là così non hanno neanche cestini non fanno niente li vedi girano mi girano intorno non escono dalle camere non riesci neanche a pulire perché ti continuano a girare intorno stavo pulendo il bagno ad esempio un giorno mi è entrato uno è andato a fare pipì in doccia perché mi ha detto che il buco leva solo per fare pipì capito? la carta igienica non la usano prendono le bottiglie si lavano con le bottiglie in doccia e in bagno c'è un allagamento tutti i giorni da quanto mi dice chi si è occupato della loro situazione conclude il giovane i veri rifugiati con diritto di asilo in questa caserma sono una minoranza ogni tanto viene ad aiutarci una ragazza che lavora a Monselic e per dire venuta ieri ci ho parlato mi ha detto che è andata alla commissione tipo a Monselic e ce ne saranno stati due o tre che hanno diritto a stare qua che hanno asilo e roba il resto non c'è nessun rifugiato è tutta una diceria ecco naturalmente questo testimone si è preso la responsabilità di tutto ciò che ha detto questo racconto non è stato né confermato né poi ovviamente si è potuto verificare mi complimento con la polizia di Mestre per l'arresto dell'ennesimo spacciatore in quella zona ma stavolta siamo di fronte a un caso limite che da un lato addolora dall'altro preoccupa per la sicurezza della gente questo quanto ha detto il governatore Veneto Luca Zaia sull'arresto con l'accusa per spaccio di un minorenne tunisino senza fissa dimora il caso addolora dice Zaia perché ci troviamo di fronte a un minorenne scaricato sul territorio senza alcun riguardo ancora una volta peraltro aggiunge ci troviamo di fronte a un cittadino della Tunisia un paese dove non si muore di fame è arrivato come profugo ma che per la sua provenienza difficilmente può essere considerato profugo c'è una differenza macroscopica conclude il governatore con i profughi veri quelli che stiamo vedendo arrivare da Siria dalla Siria in Macedonia e poi in Serbia non dimentichiamo che invece i due terzi di quelli che arrivano di noi hanno le caratteristiche per essere non hanno le caratteristiche per essere considerati tali e dovrebbero quindi essere rimpatriati cosa che naturalmente non succede o in rari casi Andiamo ora a Marghera dove questa mattina si sono celebrati i funerali della piccola Elia Molina il bimbo di tre anni che si è spento domenica all'ospedale Gallucci di Padova dove il suo cuore malato ha smesso di battere con questo caloroso applauso la barra del piccolo Elia è stata accolta all'ingresso della chiesa Gesù Lavoratore di Marghera dove Don Luca Biancafior ha celebrato i funerali all'ingresso una grande tela con la sua fotografia e una scritta ciao guerriero un migliaio di persone erano lì per stare accanto alla famiglia per salutare Elia un'ultima volta la Marghera unita che il papà Dimitri alla fine della cerimonia ha detto di voler vedere sempre non solo oggi una comunità che ha dimostrato tutta la sua unione accanto alla barra bianca con i fiori e i due pelusci preferiti di Elia Molina la mamma Valentina il papà Dimitri e la sorellina difficile trattenere le lacrime e il dolore difficile non chiedersi perché una domanda credo torni spesso perché ecco io a questa domanda non so dare nessuna risposta la vita conta e proprio loro due ce lo hanno dimostrato in questi anni di attenzione di cure di premure nei confronti del piccolo Elia e tutto questo ha un nome che si chiama amore un amore che ha accompagnato Elia fino all'ultimo battito del suo cuore malato in quella casa in via della rinascita piena di muffa un amore che deve essere più forte che mai per affrontare il dolore con la consapevolezza di avere accanto un'intera comunità parenti amici bambini hanno indossato una maglietta con la foto di Elia e un messaggio per lui ti amo al termine della funzione il feretro è stato accompagnato da palloncini bianchi ma anche colorati lanciati in aria e da una canzone di Alessandra Amoroso che Valentina e Dimitri avevano dedicato al figlio il cielo può attendere poi la mamma che non ha mai lasciato il cuscino del suo piccolo ha avuto un leggero malore Elia è stato sepolto nel cimitero di Marghera i volontari del cuore continuano i loro viaggi per rapportare materiale edile alle famiglie che sono state maggiormente colpite dal tornado dello scorso 8 luglio questo è il secondo ritiro che invece di regalarci dei coppi ci dà dei tavelloni e materiale edile che l'ha promesso delle famiglie di Via Fratelli Bandiera a Dolo adesso andiamo a fare il ritiro con il signor Trevisan qua e tra un po' li consegneremo direttamente in Via Fratelli Bandiera qui a Dolo i membri del gruppo volontari del cuore non si fermano mai da quando il tornado ha devastato i tre comuni della riviera del Brenta lo scorso 8 luglio ogni giorno cercano di dare il loro sostegno concreto alle famiglie ad esempio portando il materiale edile necessario alla ricostruzione delle abitazioni più danneggiate proprio come quelle in Via Fratelli Bandiera a Dolo dove la furia del tornado ha raso al suolo parecchie case non è che abbiamo un programma ben definito anzi lo definiamo mano in mano che andiamo avanti con i tempi vediamo anche quali sono le richieste da parte delle famiglie delle quali ne hanno bisogno dei materiali e andiamo capillarmente andiamo a andare ad ritirare questi materiali edili di prima necessità oggi ad esempio siamo andati a ritirare dei componenti che servono non per fare il tetto ma bensì il solaio in base a delle famiglie che ci hanno fatto queste richieste in base a donatori che avevano suddeti materiali intanto il presidente Zai ha fatto sapere che da quando è stato istituito il fondo regionale sono stati raccolti 250.000 euro da destinare ai comuni che poi aiuteranno le famiglie in base alle necessità novità sul tram slitta ulteriormente questa volta si parla di metà settembre questa ed altre brevi notizie di cronaca nel prossimo servizio Sant'Anna grave incidente stradale martedì pomeriggio sulla Romea all'altezza del semaforo un tir per cause ancora al vaglio della polizia municipale non è riuscito a fermarsi impattando violentemente contro un camper a bordo due coppie di romani tutte trasportate in ospedale per una donna di 57 anni però non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione sul posto e durante il trasferimento al nosocomio non ce l'ha fatta in gravi condizioni invece un 69enne per il pesante trauma toracico riportato con possibili problemi anche alla colonna vertebrale Jesolo lì è violenta in un locale notturno tra i componenti di una comitiva di giovani residenti nel milanese e nel bergamasco ad avere la peggio uno dei milanesi preso a pugni con conseguente frattura facciale gli agenti di polizia sono riusciti a riportare per quanto possibile la calma ora le posizioni di alcuni del gruppo almeno quattro sono al baglio delle forze dell'ordine non è escluso che anche le telecamere di sicurezza della discoteca possano contribuire a far luce sulla dinamica della vicenda in attesa anche che il ferito portato in ospedale possa dire la sua Favaro slitta ancora il via alle corse del tram fino a Venezia lo dichiara l'assessore Boraso dopo una riunione con ACTV uffici della mobilità PMV e polizia locale inizialmente il servizio si sarebbe dovuto attivare il primo settembre ma la commissione di sicurezza arriverà in città solo la prossima settimana per effettuare gli ultimi test entro il 16 dunque dovrebbe essere tutto pronto in questo tram lo sappiamo è stato spessissimo al centro di polemiche e di proteste cittadine così come la Valle Nari Bis che è l'argomento al centro del quesito di tigiline aperta che vi abbiamo proposto questa settimana cantieri aperti nonostante le proteste che cosa ne pensate ce lo potete dire attraverso un sms una telefonata o se preferite un email o un fax ai numeri e agli indirizzi che vedete scritti in sovraimpressione i vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali le dichiarazioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sul gay pride in città hanno scatenato la reazione del mondo omosessuale è una buffonata il massimo del kitsch vadano a farla a Milano questa una delle dichiarazioni che Luigi Brugnaro ha fatto durante un'intervista a Repubblica a proposito del gay pride una presa di posizione in linea con la decisione di ritirare i cosiddetti libri arcobaleno dalle scuole e con la polemica social col cantante Elton John definito sempre nella stessa intervista un arrogante che da tre anni non mette piede a Venezia se permette ai nostri figli ci pensano i genitori la famiglia con due donne il bambinetto è innaturale le dichiarazioni del primo cittadino hanno scatenato le reazioni del mondo gay non è certo il pride dello scorso anno ad aver messo in imbarazzo Venezia semmai alla volgarità del sindaco Brugnaro a far vergognare la città di fronte a tutto il mondo hanno scritto in una nota esponenti di associazioni dell'Archigay Veneto indicando che la sede del pride non la decide il sindaco Archigay e le associazioni LGBT del Veneto si legge ancora non si faranno certo intimidire e la città di Venezia non si farà intimidire il pride è il presidio dei diritti e delle libertà di tutti Brugnaro rilevano i firmatari della nota è un vandalo della democrazia che mostra di non conoscere e di non rispettare Venezia di non interessarsi ai problemi reali della città che non sono certo la presenza del pride forse il pride ha più cittadinanza a Venezia che altrove l'unica cosa di cui la città non può essere orgogliosa continuano è il suo sindaco Brugnaro se ne faccia una ragione Ascol di Boom per Focus che anche stasera mette sotto la sua lente di ingrandimento la grande attualità vista dal Veneto e dai Veneti in studio a partire dalle 21.05 insieme al direttore Luigi Bacialli ci saranno Nicola Atalmi Bruno Cesaro Morena Martini Giuseppe Panna Leopoldo Bottero Deborah Varaschin Diego Cancian Jonathan Morello e come sempre potrete intervenire da casa inviando i vostri SMS per questa edizione di TG Venezia ma è stata tutto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro una buona serata arrivederci a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti.